Ciao ragazzi, in questo tutorial vi faccio vedere come costruire un'immagine HDR L'HDR sarebbe High Dynamic Range, è una tecnica che sta prendendo piede ultimamente Negli Stati Uniti è già abbastanza diffusa e con questa tecnica si possono ottenere risultati come quelli che vedete in queste foto del prototipo della Alba Questo è il nome di questa motocicletta stupenda che ha costruito la 1000% di Verano Brianza in Italia Ci sono due modi per fare l'HDR, un modo è usando semplicemente il programma Photomatix Anche se ci sono altri programmi che fanno questo Il programma Photomatix consente di unire le tre o cinque esposizioni che costituiscono la foto HDR in un'unica Che poi verrà elaborata in questo stesso programma, io uso Photomatix E ci permetterà di ottenere già una foto HDR Oppure, e questo lo farò vedere in altri tutorial, c'è la possibilità di lavorare la foto ottenuta con Photomatix Con ulteriori procedimenti, plugin, dentro Photoshop Per ottenere immagini come quelle che state vedendo in questo momento Quindi con un grandissimo peso dei dettagli, delle luci, delle ombre Che sono risultati ottenibili non solo con il semplice programma che permette di unire le tre immagini Bene, ho preso tre foto che sono queste che ho scattato in Messico Nella città di Tasco di questa bellissima chiesa, la Santa Prisca E con queste tre foto in Photomatix andiamo a ottenere una foto ad alto range dinamico Quindi ci serve il programma Photomatix Pro Carichiamo le Bracketed Photo, ovvero le tre diverse esposizioni Andiamo in Desktop, HDR Allora, prendiamo la nostra Directory, HDR Video Tutorial Prendiamo le nostre tre esposizioni Load Eccole E qui abbiamo una schermata dove ci chiede che tipo di processo possiamo implementare nell'immagine Io di solito lo lascio così, quindi allineo le immagini sorgente senza ritagliarle Il Ghosting Artifact sono praticamente quelle sfumature che si vedono nell'immagine Quando uniamo tre esposizioni e i soggetti che sono presenti in queste tre foto Si spostano durante i tre scatti Di conseguenza il programma non riesce a metterli uno sopra l'altro come si deve E si hanno questi effetti fantasma In questo caso è un'immagine fissa Non ne abbiamo di soggetti fantasma Quindi non perdiamo tempo con questa preproduzione Ridurre il rumore Non lo facciamo in questo caso Io preferisco farlo in post-produzione salvo in alcuni casi E riduciamo le aberrazioni cromatiche Queste sono un effetto ottico che si ingenera nella lente Quando si fotografa contro delle fonti di luce Quindi i profili degli oggetti che hanno una fonte di luce forte di eto Tendono a produrre nella lente dei contorni violetti Dei contorni fosforescenti eccetera Un effetto ottico Alcune lenti ne hanno di più, altre di meno Bene, non perdiamo tempo con la tecnica fotografica E parliamo di post-produzione con Photomatix Pro In questo momento Photomatix sta generando l'immagine ad alto range dinamico L'immagine che otteniamo è a 32 bit Ancora un attimo di calcolo È un'immagine a 32 bit Quindi ha una grandissima densità di dettagli, di sfumature, di colori Qual è il problema? A 32 bit non può essere visualizzata in un computer In un monitor che di solito lavora con una profondità di colore di 8-16 bit Quindi questa immagine, come vedete, bruttissima Deve essere sviluppata Immaginiamo che sia un negativo Come il negativo delle pellicole fotografiche Lo sviluppiamo come Tone Mapping Fusion Voilà Eccoci Qui cominciamo a già avere un'elaborazione fatta da Photomatix della nostra immagine Ci sono diversi profili di colore Io lascerei le impostazioni su Default Ok, così almeno potete farlo anche voi Default Bene, questa è l'immagine di default Ci sono diversi slider, come potete vedere Che controllano aspetti più o meno importanti per la generazione della foto Questo è la forza dell'unione delle tre foto Come potete vedere, per esempio, intorno alle candele La luce delle candele risulta essere più definita se aumentiamo la foto Il microcontrasto è un altro parametro importante Quindi, per esempio, possiamo metterlo qui Quindi, la luminosità aumentarla un poco Se aumentiamo la luminosità vediamo che l'istogramma qui in basso Che è abbastanza importante Anche se non mi voglio adentrare in una spiegazione in questa sede Però, la densità e la distribuzione dei pixel rimangono dentro questo nostro istogramma E questo è molto importante Che non vengano tagliati fuori come in questo modo Vedete? Ecco, qui per esempio ci sono dei pixel che escono dall'istogramma E dei dettagli che si perdono Aumentando il punto di nero, il black point A parte comunque l'istogramma Dobbiamo cercare di trovare un risultato che ci soddisfa Uno slider molto importante è lo smoothing Questo Tanto più noi lo mettiamo a sinistra E tanto più abbiamo un effetto HDR Che può essere anche psichedelico Questo è uno degli effetti più esagerati Che possiamo ottenere per questa immagine Giocateci con prudenza E cercate di capire qual è l'effetto che volete ottenere Io di solito, più che in light mode Lavoro in smoothing Senza attivare la casella light mode E mi muovo con questo slider Così è una foto tendenzialmente normale Si avvicina molto a una fotografia normale Se invece portiamo lo slider a sinistra La foto comincia a diventare un HDR Quindi vengono presi tantissimi dettagli Nelle parti d'ombra, nelle parti in luce In questo caso forse possiamo tirare fuori un po' di colore Da i muri Che in realtà sono rosati Un po' gialli La temperatura Vediamo un po' se vario la temperatura Cosa succede Mi piace Io credo che la foto già Non è malaccio Vediamo Dovete giocare un po' con questi Parametri per trovare la combinazione che più vi aggrada Io per esempio preferisco questa combinazione Anche se vengono persi alcuni pixel nell'istogramma Soprattutto appunto i pixel luminosi O highlights Color saturation Ma forse è troppo Micro contrast Poi abbiamo il light mode Wow Molto molto forte Sì io credo che questo è il risultato più equilibrato Almeno secondo il mio gusto estetico Poi fate Vobis Quindi processiamo l'immagine Quindi salviamo la nostra immagine Desktop HDR video tutorial In TIF 16 bit Mi sembra buono Dopodiché potremo aprirla in Photoshop E aggiungere maschere di dettagli E una serie di lavori Che permetteranno di renderla ancora più bella Ancora più ricca di dettagli Ancora più equilibrata Io vi invito a iscrivervi alla newsletter del mio sito Che è www.longwalk.it Sto viaggiando per il mondo da 3 anni E 50.000 km Con una vecchia moto guzzi Il mio sacchiotto di peluche La mia macchina fotografica E sto facendo foto e video di tutto Ci sono tanti progetti Sia umanitari Che comunque fotografici Nel mio viaggiare Mi piacerebbe condividerli con voi Attraverso le newsletter Che preparo in tre lingue A quale potete iscrivervi Sul sito www.longwalk.it Spero possiamo ritrovarci lì E sicuramente in uno dei prossimi tutorial Vi ringrazio molto Ci vediamo Ciao